Dio vi benedica, fratello Vittor, sorella Patti, grazie per il vostro tempo e questa sera con l'aiuto del Signore parleremo di un tema che se possiamo dare un titolo è il leader provveditore della sua casa. Abbiamo iniziato una serie di studi con riferimento per l'insegnanza di essere leader e questa sera parleremo del leader provveditore della sua casa. Leggeremo diverse scritture. La prima scrittura che voglio leggere si trova nel libro dei Salmi, capitolo 128, il verso 1 al verso 3. Dice la scrittura, beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Allora mangerai dalla fatica delle tue mani, sarai felice e godrai prosperità. Tua moglie sarà come una vite fruttifera nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua mensa. Ti ringraziamo Padre della gloria, Dio potente di come tu, Signore, hai portato questo studio alle nostre vite, in questo tempo, Signore. Possa tu, Signore, in questo momento svuotare il nostro cuore, la nostra mente, Signore, aiutarci a ricevere parola di vita per noi, insegnanza per noi, Signore, affinché mettendola in pratica come dice la tua parola, Signore, tu porterai in noi felicità, prosperità, Signore Santo, affinché nelle nostre case, Signore, abbondi la tua benedizione, Signore, e affinché noi possiamo essere di benedizioni alle persone che tu hai prescelto, Signore, di essere intorno a noi, Signore. Ti stiamo chiedendo questo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Fratelli, è importante, prima di entrare nello studio, menzionarvi i cinque punti che toccheremo, che parleremo in questo studio con riferimento a un leader provveditore della sua casa, un leader che provvede alla sua casa. Amen. Parleremo di cinque punti. Il primo punto è la provvigione materiale, dove si parlerà della provvigione basica e della provvigione formativa. Il secondo punto è la provvigione personale, dove parleremo dei valori personali e dei valori strutturali. Il terzo punto è la provvigione familiare, dove parleremo delle convinzioni familiari e dove parleremo dell'apprendimento giocoso. Amen. Il quarto punto è la provvigione morale, dove parleremo dell'etica morale e dell'etica cristiana. E per concludere parleremo di un quinto punto, che è la provvigione spirituale, dove parleremo della base spirituale e della base solida. Questi sono i cinque punti che toccheremo questa sera con riferimento a un leader che deve provvedere alla sua casa. Amen. Il Salmo 128 dice, beato chiunque, se non fa distinzione, beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Non è solo importante temere a Dio, ma dobbiamo camminare nelle sue vie come lui vuole che noi camminiamo in queste vie. Dice che facendo questo mangerai, attenzione questa è una parola importante, mangerai della fatica delle tue mani. E dice che sarà faticoso procurare ciò di cui dobbiamo uccibarci. Ma fatto questo, dice che sarai felice e godrai prosperità. E che è curioso che dopo menziona tua moglie sarà come una vita fruttifera, dice, nella intimità della tua casa e i tuoi figli come piante d'ulivo intorno alla tua mensa. Amen. Fratelli, è importante affrontando questo studio parlare di alcuni punti importanti. Prima di tutto una nota, un punto importante, prima di entrare a questi cinque punti, un'introduzione se possiamo dire così, è che provvedere al sostegno della vita è una priorità fondamentale per ogni famiglia, di ogni famiglia. E anche se è vitale, non è l'unico motivo per la quale viviamo. Molti pensano che l'unico motivo prioritare per la quale viviamo è provvedere il sostegno della vita alla nostra famiglia. Questo è importante, è vitale, ma non è l'unico motivo per la quale viviamo. Amen. Un altro punto importante è capire cosa, come definisce il secondo dizionario, la parola fornire. La parola fornire nel secondo dizionario biblico significa fornitura, consegnare, equipaggiare, attenzione a questa parola, equipaggiare, facilitare, amministrare, raccogliere, coprire, preparare e prevenire. Amen. Il problema che si presenta nella società di oggi è che molti padri si concentrano solamente al provvedere ciò che è materiale e si allontanano, non prendono in considerazione ciò che sono le necessità in un nucleo familiare. Ecco quindi l'importanza di questi cinque punti. Il primo punto la provvigione materiale. Proverbi capitolo 13 versetto 22 caro fratello Vittor se hai questo verso. Amen. Libro di proverbi capitolo 13 versetto 22. Amen. Amen. C'è una versione tradotta in italiano che è la versione amplificata in inglese. Dice un uomo buono, lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la ricchezza del peccatore è immagazzinata per le mani dei giusti. Amen. E qual è il contesto di questa parola buono? Il contesto di questa parola buono il significato è piacevole, eccellente, dice la scrittura. Dice prezioso nella stima, felice, prospero, dice la parola, con una buona comprensione giusto. Amen. Quindi chi è buono, dice ancora in un'altra versione, nel trasmettere l'eredità ai nipoti, chi è buono trasmette l'eredità ai nipoti. Il peccatore, dice questo verso, dovrà lasciare i suoi beni ai giusti. Amen. Cosa vuol dire essere peccatori? È fare la volontà contraria a quella di Dio, continuare a vivere una vita, secondo noi, lontana dal proposito di Dio. E dice che facendo questo non avrai prosperità. Quindi che cosa vuol dire? Cosa possiamo capire in questo? Che le cose materiali sono delle necessità basilari dalle quali può dipendere una famiglia? Per esempio gli alimenti, un tetto, eccetera, eccetera. Un uomo, un leader, un sacerdote della casa è veramente compromesso a provvedere questo, ma non solo nel tempo di adesso, ma provvederlo per un tempo futuro, ma anche la responsabilità di un padre è insegnare ai propri figli crescendo a diventare loro stessi dei provveditori. Perché hanno bisogno di imparare dove sarà il loro futuro, quale sarà il loro lavoro, come potranno sviluppare la loro crescita mentre studiano, scoprire qual è il loro percorso, imparando, formandosi, cominciando a prendere responsabilità. Quindi come provveditore delle cose basiche dobbiamo insegnare anche i valori ai nostri figli di queste cose. Come provvigione formativa è parte di un'educazione che come padri bisogna dare ai propri figli, è importante preparare i figli per il futuro, è importante aiutare, avere l'aiuto della propria moglie, della propria sposa per far crescere in questo i figli, è importante l'educazione, è un compito importantissimo educare i nostri figli nei differenti livelli della loro età, come abbiamo già letto anche in un altro studio precedente parlando dei padri responsabili verso i figli. Quindi l'educazione è una pratica molto importante per far sì che durante il tempo tutta l'attrezzatura che noi le stiamo dando ai nostri figli li aiutano o lo aiutano e gli danno l'abilità per aprire il loro cammino alla propria vita personale affinché quando arrivano a una certa età incominciano a essere dipendenti, affinché quando arrivano alla loro età di sposarsi possano essere dipendenti perché i genitori le hanno insegnato, le hanno dato tutta l'attrezzatura basica e l'attrezzatura strutturale di come poter diventare provveditori. Uno dei problemi molto grandi che si sta vivendo nella società moderna di questo tempo è che ci sono ancora uomini che non hanno potuto lasciare casa, uomini che non si possono sposare, ma il problema più grande è coppie sposate dove ancora o marito o moglie dipendono dai genitori, dove vivono più quei genitori che più nella loro casa, dove dedicano più tempo a continuare a stare con mamma e papà e non si preoccupano di insegnare ai propri figli come sviluppare una vita. Fratelli, se la mia vita o la tua vita è sempre a casa di mamma e papà, che le insegniamo al figlio? Il figlio crescerà vedendo di stare sempre a casa con mamma e papà. dobbiamo insegnarle a avere veramente le provvigioni basiche, ma anche le provvigioni informative per darle una struttura, una base di come andranno a crescere. Abbiamo detto che il secondo punto importante è la provvigione personale. Parlando della provvigione personale, parleremo dei valori personali. Amén. Fratello Vittor, Proverbi, capitolo 15, versetto 17. Amén. Libro dei Proverbi, capitolo 15, versetto 17. Amén. Amén. Meglio un piatto d'erbe dove l'amore, dove l'amore, che un bue ingrassato dove l'odio. Amén. Cosa ci può insegnare questo verso? Prima di tutto, quello che ha preso la mia attenzione è cosa significa la parola amore in questo contesto. L'amore, in questo contesto, l'amore è paragonato all'amore di Dio verso il suo popolo. È meglio un piatto d'amore, un piatto pieno di un qualcosa dove non richiede nulla in cambio. Un amore come quello di Dio, a men come dice la scrittura, che un bue ingrassato, che avere tanto, che avere l'abbondanza di tante cose perché ci siamo preoccupati a provvedere tante cose, ma non c'è amore. Fratelli, i valori personali sono acquisiti attraverso l'apprendimento che la persona ottiene intorno all'ambiente in cui opera. La casa, fratelli, la casa è un luogo molto importante per imparare e mettere in pratica i valori personali. È nella casa dove un padre trasmette ai propri figli il rispetto verso gli altri. È nella casa dove un padre insegna ai propri figli ad essere onesti. È nella casa dove un padre insegna ad essere grati, ad essere soddisfatti, ad essere parte del nucleo familiare, dove veramente si vive un'atmosfera piacevole e familiare. Quindi è importante davanti ai nostri figli trasmetterle una soddisfazione di quello che si ha. È importante trasmetterli che sono parte del nucleo familiare, non importa l'età. Loro si devono sentire parti. Scusate, parti. Parte. È importante insegnarle l'onestà. È importante insegnarle il rispetto. E tutte queste cose non si possono fare se non nella casa, all'interno della propria casa. Amen. Valori personali. Amen. Si possono insegnare con l'amore in casa. Come provvigione personale sono importanti anche i valori strutturali. Amen. Sono un punto importante. Libro dei Salmi, capitolo 115, versetto 114. Fratello Vittor. Amen. Libro dei Salmi, 115, versetto 114. Ma non c'è il verso 114. Scusa, Libro dei Salmi, verso 14. Se ho scritto male. Amen. Il Signore moltiplica le sue grazie a voi e ai vostri figli. Amen. In una versione della Nuova Deodati dice l'Eterno faccia crescere. Amen. Nella versione che dice l'Eterno vi faccia crescere. In un'altra versione, come abbiamo ascoltato, dice l'Eterno vi faccia moltiplicare. Amen. Cosa significa questa parola? L'Eterno vi faccia crescere a voi e ai vostri figli. Vuol dire veramente che l'Eterno aggiunge, l'Eterno aumenta. È il Signore che aumenta. Non siamo noi con le nostre forze che possiamo aumentare un qualcosa. È il Signore. Amen. Questo è un punto molto importante come padri, come leader che devono provvedere. I valori strutturali, fratelli, sono quei principi che aiutano nella vita personale dei nostri figli nello stesso modo quando stanno interagendo a scuola, al lavoro o addirittura anche in chiesa. I valori strutturali sono principi importanti per insegnare come vivere ai nostri figli quando sono a scuola, quando saranno al lavoro, quando sono in chiesa. Questi valori strutturali sono necessari e fondamentali e devono mantenersi sani perché i nostri figli hanno bisogno di essere sani mentalmente, emotivamente, fisicamente e soprattutto dobbiamo farli sentire e così non solo i nostri figli ma anche le mogli si devono sentire benedetti da Dio. Quindi, cari mariti, cari papà, attenzione al comportamento, attenzione alle parole che si dicono, attenzione ai discorsi che si fanno, perché le tante preoccupazioni che possiamo avere come padri focalizzati, concentrati solo più alle cose materiali, come abbiamo detto all'inizio, possono portarci a reagire, a parlare, a fare discorsi sbagliati dove i figli stanno imparando valori strutturali sbagliati. E' importante questo punto, insegnare valori strutturali, principi che aiuteranno alla vita personale dei nostri figli, delle nostre mogli quando sono a scuola, quando sono a lavoro, quando sono in chiesa. Amen? Quindi, come abbiamo letto nel Salmo 115, 114, scusate, il versetto 14, dice l'Eterno vi faccia crescere. E' importante non solo la crescita fisica, la crescita economica, ma è importante anche la crescita spirituale. Amen? Il terzo punto è la provvigione familiare, ok? La provvigione familiare, possiamo leggere una scrittura che si trova in prima, in proverbi, fratello Vittor, capitolo 1, versetto 10. Libro dei proverbi, capitolo 1, versetto 10. Amen. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono sviare, non dar l'orretta. Amen. Una parola molto, molto chiara e semplice. fratelli, parlando della provvigione familiare, è importante parlare anche delle convinzioni che una famiglia ha. Questo credo che sia un punto molto importante per un leader, per un provveditore nella propria casa, ma non solo, anche come leader per provvedere nella chiesa o dove il Signore ti sta mettendo. Convinzioni personali, questo tipo di valore o questi tipi di valori, questi tipi di convinzioni arrivano e provengono da quelle credenze e da ciò che i genitori credono. Ed è da queste credenze, da ciò che i genitori credono, che possono educare i loro figli e trasmetterli attraverso i propri comportamenti. Se papà e mamma, per esempio, dicono che hanno fede, che confidano nell'Eterno e che l'Eterno è il provveditore, ma davanti a una difficoltà tutto ciò che fanno è affannarsi senza aspettare l'aiuto di Dio o, anziché aspettare l'aiuto di Dio, inginocchiarsi, pregare, rimanere in silenzio e veramente disperarsi a cercare una soluzione, i nostri figli non impareranno convinzioni sante che provengono dalle scritture, dall'insegnamento che la parola di Dio ci dà, ma stanno imparando convinzioni personali. Quindi ciò che loro faranno davanti a una difficoltà, davanti a una situazione di questo tipo dove è veramente importante una provvigione familiare e veramente avere fiducia più nel mondo che nel Signore, non avere pazienza e disperarsi. Fratelli, questi valori ai nostri figli si insegnano solo in base a ciò che noi crediamo e ciò che noi stiamo praticando in base a ciò che noi crediamo. Perché una volta che i nostri figli, ma ripeto anche le nostre mogli, hanno ricevuto delle convinzioni da parte nostra, queste saranno le basi che aiuteranno allo svolgimento della loro vita personale e individuare. Vuol dire che se le insegniamo preoccupazione, affanni, mancanza di fiducia nel Signore, loro svilupperanno la loro vita in queste convinzioni. Ma se al contrario la nostra convinzione è che Dio è il provveditore di ogni cosa e che la nostra vita dipende da Lui perché Lui ci ha creati e dice la scrittura che ogni cosa è stata scritta prima ancora che noi nascessimo, noi stiamo trasmettendo una convinzione lontana da questo mondo e ciò che i nostri figli e le nostre mogli faranno è vivere e sviluppare la loro vita quotidiana con queste convinzioni. Ma allo stesso tempo insegnare queste convinzioni è anche importante perché possono servire, anzi serviranno come difesa per i nostri figli ma anche per le nostre mogli quando non sono con noi e quando, ripeto, non sono con noi a difendersi come difesa con rispetto a questa influenza negativa, dannosa che la vita ogni giorno ci mette contro dove noi viviamo. Amen fratelli? Quindi sono importanti le convinzioni, è la base di una vita cristiana. In che cosa credi? Qual è la testimonianza di ciò che tu credi? Quale convinzioni stai insegnando nella tua casa? Stai insegnando la fede in Cristo Gesù? Stai insegnando una tua fede personale? Stai insegnando ad aspettare in silenzio la mano di Dio fino all'ultimo secondo o sta insegnando che quando arriva un problema subito bisogna trovare una soluzione? Questo è molto importante perché con questo principio molto importante si va a sviluppare tutto il resto della vita dei nostri figli, delle nostre mogli. È importante quindi sempre nella provvigione familiare non solo le convinzioni, scusate, ma è anche importante insegnare ai nostri figli principi o modi di vivere anche giocando con il gioco. Questa è una cosa meravigliosa che io e mia moglie possiamo testimoniarvi e che continuiamo a fare e che continuiamo a sperimentare. giocando insegnando principi della parola di Dio, principi di vita sana affinché loro sviluppino la loro vita in un modo sano e sempre il gioco aiuta a un bambino, un gioco sano ovviamente aiuta il bambino ad apprendere. Quindi sebbene fratelli ci sono diversi modi che si può insegnare, il gioco impatta molto ai bambini. Giocare con i propri figli quindi richiede tempo alla famiglia, richiede tempo ai figli, richiede tempo alla moglie. Quindi ritorniamo al punto numero uno che se solo pensiamo che tutta la nostra provvigione è una cosa materiale, siamo concentrati nel materiale, non avremo tempo per niente, ma saremo concentrati a lavorare, lavorare, lavorare per provvedere, ma stiamo perdendo dei principi importanti per la vita cristiana. Quindi le attività ricreative per i bambini sono di vitalità importante. Il rapporto genitori figli in questi momenti dedicati a loro sono importanti perché questi tipi di relazioni rafforzano i legami familiari, fratelli. Crea un'atmosfera di armonia all'interno della famiglia. È importante avere tempo di qualità. Per esempio noi dai nostri maestri sempre abbiamo imparato, scegli un giorno della tua settimana, almeno un giorno della tua settimana, almeno, e dedicalo alla tua famiglia. Vuol dire che in quel giorno il centro è la famiglia e in quel giorno dalle tutto il tempo che hai come padre a tua moglie, a tuo figlio, per insegnare ogni principio, ogni cosa che tu stai sperimentando settimanalmente, vivendo immerso nella parola di Dio, camminando nelle vie del Signore. Non vuol dire che il resto della settimana non fare questo. Sto dicendo in quel giorno dedicati al 100% alla tua famiglia. Quindi questa parte è una parte molto importante per i padri. È una responsabilità perché questo dipende veramente da un padre, da un marito, di stare insieme a sua moglie e a suo figlio. Accompagnare i loro bambini al parco, le mogli al parco, fare una vacanza, fare una gita, per esempio dopo il culto andare a passeggiare anziché rinchiuderti sempre a casa dopo una settimana o durante il sabato. Fate come volete ma trovate un tempo perché è buono e rinforza i legami familiari. Fratelli, questo non è solo un qualcosa che può arrivare dallo studio, ma sono esperienze di vita comprovate, ricomprovate che la famiglia rimane più unita, che la famiglia è solida quando ha tempo di qualità con il Signore. Perché è importante non solo avere un tempo di qualità e passare la vita, la giornata come la passa il mondo, ma passare la giornata passandola in Cristo Gesù, con principi del Signore. Quindi scusate, questo è un buon tempo per trasmettere l'affetto paterno, per trasmettere l'affetto come marito. E anche se può sembrare, ma cosa può fare solo un momento dove portiamo il bambino a giocare al parco? In realtà, fratelli, è un momento speciale per i tuoi figli, è un momento speciale per la tua moglie, perché in questo tempo loro stanno apprendendo tantissimo da te come leader, come sacerdote, come provveditore della casa. E tutto ciò che loro impareranno, scusate, lo metteranno in pratica quando loro saranno padri. Quindi, ripeto, uscire insieme, passeggiare. A me è importante. Fratelli, noi, io con mia moglie, lo facciamo spesso. Gloria a Dio per questa opportunità che il Signore mi sta dando di lavorare da casa. Molte volte interrompo il lavoro, esco, passeggiamo. Abbiamo un giorno specifico dove lo dedichiamo alla famiglia. Sempre cerchiamo di passare un tempo fuori con i figli quando la giornata è bella, di non rinchiudirci sempre in casa. Ci sono momenti dove uno è stanco e vuole andare a casa, ma sempre facciamo attenzione anche alle necessità dei nostri figli e di tempo di qualità, perché porterà molto frutto e molti benefici. Questo è un problema grande e lo stiamo vedendo soprattutto con mia moglie andando a passeggio, passando tempo insieme, che sempre vediamo mamme sole con i bambini o addirittura bambini soli con i nonni, padri che non sono mai presenti. Quando parli con loro, sempre il lamento che si può dire è mio marito sta lavorando, mio marito torna tardi, non lo vedo quasi mai, o quando arriva a casa è sempre stanco, mangia, non facciamo in tempo a parlare, va a dormire. Padri, fratelli, attenzione. Questo può essere e diventerà un problema nel futuro per il matrimonio, per i nostri figli. Quindi è un tempo importantissimo, fratelli, nel nome di Gesù. Amén. Il quarto punto importante è, come abbiamo detto, la provvigione morale. Amén. Fratello Vittor, parlando dell'etica morale, leggiamo la scrittura in prima di Timoteo, capitolo 3, versetto 7. Amén. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli fuori, perché non cada in discredito e nell'accio del diavolo. Amén. È necessaria, dice, una buona testimonianza per essere stimati. Vuol dire che se noi abbiamo una buona reputazione, se i nostri figli hanno una buona reputazione, se le vostre mogli hanno una buona reputazione che è il frutto di tutto ciò che abbiamo parlato, insegnando principi, eccetera, eccetera, noi saremmo stimati. Amén. Cosa vuol dire essere stimati? Cosa vuol dire avere una buona reputazione? Vuol dire la parola che il dizionario biblico dà con riferimento alla parola buona reputazione è testimonianza. Amén. La testimonianza di Cristo attraverso di noi è importante, frutto che noi ci sono sani principi. Amén. È importante avere una buona testimonianza. Quindi i valori morali sono azioni e atteggiamenti, fratelli, che si sviluppano nella famiglia e sono considerati come inevitabili affinché ci sia ordine. Perché senza i valori morali, amén, ci sarà disordine. E questo è importante per il bene di tutti all'interno delle proprie case. I valori morali li possiamo descrivere come un insieme di diverse regole che si possono stabilire in modo che le persone si possano identificare, identificarsi. Vuol dire che quando poniamo delle regole, se possiamo dire ovviamente regole cristiane secondo la parola di Dio, e le insegniamo, le persone si identificano in queste regole, in questi valori, sia a casa che in chiesa che al lavoro e quindi arriva la buona testimonianza. Amén. Quindi è importante la nostra relazione col Signore, è importante la lettura della parola di Dio con un tempo di qualità per i leader, per i padri, affinché si possono insegnare questi valori morali e affinché in questi valori morali ognuno della nostra famiglia si identifica e una volta che si è identificato in questi valori possiamo essere di buona testimonianza. Quindi essere stimati, essere ascoltati e quindi è il Signore, come dice la parola, aggiungendo alla Chiesa. Dove veramente il Signore mi sta portando in questo momento è nella scrittura che si trova nel libro degli Atti, capitolo 2, che è veramente una spiegazione di quello che stiamo parlando dove nel verso 46-47 dice Questa è la chiave, godendo il favore di tutto il popolo, essendo stimati per la nostra testimonianza. Il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati Per avere questa buona testimonianza è necessario il tempo di qualità Per questo abbiamo iniziato questo studio dicendo, questa introduzione provvedere non è solo le cose materiali perché se ci concentriamo solo nelle cose materiali stiamo perdendo tempo e stiamo veramente perdendo il tempo di qualità ma stiamo occupando il nostro tempo solo nel nostro lavoro provvedendo secondo noi ma stiamo perdendo un sacco di tempo di qualità del Signore nella nostra famiglia ma non saremo di nessuna testimonianza a coloro che sono intorno a noi quindi possono passare 4 anni, 5 anni e le persone intorno a noi non si convertono perché non ci stimano, perché non vedono una testimonianza in noi ma ci vedono uguali a loro è importante anche nella provvigione morale fratelli, nell'etica morale scusate, comprendere come avevo detto all'inizio il tempo di qualità nel Signore nella provvigione morale abbiamo detto che un altro punto importante è la etica morale fratello Victor libro di Tito capitolo 1 verso 5 e verso 9 amèm? libro di Tito capitolo 5 versetto 1 versetto 9 non è Tito 1 scusa, Tito 1 5 e 9 sì, scusami dal 5 e il 9 fino al 9 dal 5 al 9 ok, amèm? per questa ragione ti ho lasciato a Creta perché tu metti in ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni quando si trovi chi sia irreprensibile marito di una sola moglie che abbia figli fedeli che non siano accusati di solutezza né insubordinati infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio non arrogante non irracondo non dedito al vino non violento non avido di illeciti guadagni ma ospitale amante del bene assegnato del bene assennato giusto santo temperante attaccato alla parola sicura così come è stata insegnata per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddiscono amè che verso meraviglioso per parlare di valori per parlare di etica cristiana fratelli nella parola di Dio troviamo tutti i valori morali alla quale un cristiano capo e genitore deve come posso dire che ogni genitore ogni capo e ogni padre deve avere amè l'apostolo Paolo scrive nelle sue carte a Timoteo e a Tito principi cristiani per coloro che desiderano essere una guida nella chiesa le sta insegnando a Timoteo a Tito questi principi per essere guida di una chiesa e in questo contesto Tito è incaricato di mettere ordine nella chiesa in Creta parlando in questo contesto nel verso 6 al verso 9 possiamo denotare diversi principi importanti per un leader un leader nella propria casa prima di tutto ma un leader anche nella chiesa alla guida di una chiesa è un leader compromesso con il resto del corpo della chiesa portando avanti la chiesa di Cristo e dice nel verso 6 al verso 9 diverse qualità alla quale noi dobbiamo credere e mettere in pratica dice di essere irreprensibili marito di una sola moglie e avere figli fedeli che non sono accusati di dissolutezza e insubordinati già nel primo verso nel verso 6 scusate possiamo denotare che questo è il risultato di tutto ciò che abbiamo parlato se un padre fa un buon lavoro se un padre non fa un buon lavoro già ci sarà un fallimento nel verso nei primi negli primi esempi del verso 6 non sarà un marito irreprensibile sicuramente non sarà un marito fedele a una sola moglie e non crederà che il matrimonio è uno e molte persone anche dicendosi cristiani credono nel divorzio quando la scrittura è chiara in ciò che parla sul divorzio bisogna avere figli fedeli vuol dire come stiamo parlando insegnarli principi ai nostri figli affinché siano fedeli perché loro hanno le nostre stesse convinzioni e non perché sia un obbligo perché se diventa un obbligo è solo questione di tempo che quando arrivano all'età dell'intendimento quando arrivano all'età dove papà e mamma non ci saranno saranno soli a scuola o doveunque siano veramente non saranno fedeli fedeli a chi? prima di tutto a Cristo e dopo ai propri padri e madri e quindi arriva l'accusa sui vestiti di nostri figli e arriva tutto quello che è il problema di una non sana provvigione spirituale morale etica eccetera eccetera dice poi il verso 7 il vescovo infatti come amministratore di Dio deve essere nuovamente dice irreprensibile non arrogante non iracondo non debita al vino non violento non avido disonesto guadagno ma dice al contrario ti dà le qualità dice ospitale amante del bene assennato giusto santo e padrone di sé che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono se non siamo fermi negli insegnamenti che riceviamo ma allo stesso tempo non abbiamo tempo di ricevere insegnamenti come possiamo aiutare e convincere i nostri familiari i nostri figli le nostre mogli a vivere una vita santa se noi non abbiamo tempo di insegnare la vita santa e cristiana con un'etica cristiana amén quindi è importante è importante capire questi principi è importante capire i principi che la parola di Dio ci vuole insegnare e questi principi devono essere applicati sia nella vita come membro di una famiglia ma anche veramente nella vita cristiana nella chiesa dove il Signore ci ha messo e dice la parola in prima di Timotio capitolo 3 verso 5 ma se uno non sa governare la propria famiglia come potrà aver cura della chiesa di Dio vedete che importante è la provvigione della propria alla propria casa in tutti questi punti che abbiamo toccato quest'oggi molte volte si ha due tipi di personalità il papà cristiano quando va in chiesa e il papà e non il cristiano quando è a casa che veramente non è cristiano non porterà a nessun punto a nessuna crescita e a niente fratelli è importante il tempo come leader e come padri che dedichiamo al Signore come ultimo punto andando verso la conclusione il quinto punto è la provvigione spirituale è importante quindi avere una base spirituale fratello Vittor libro di Genesi capitolo 2 versetto 8 libro di Genesi capitolo 2 versetto 8 Amen Dio il Signore piantò un giardino in Eden a Oriente e vi pose l'uomo che aveva formato Amen punto importante che il piano di Dio se possiamo dire l'idea di Dio se vi piace così l'idea originale originaria di Dio era veramente aver messo Adamo e Eva nel giardino affinché avessero una comunione intima con il Signore e dice che il Signore ogni giorno passeggiava Amen con Adamo ogni giorno il giardino rappresenta la nostra comunione intima con il Signore la nostra intimità Amen quindi possiamo capire imparare che il Signore ha creato l'uomo con un grandissimo potenziale e gli ha permesso di svolgere diverse funzioni all'interno del giardino oltre a coltivare la terra doveva essere un buon leader provveditore della sua casa Amen così allo stesso modo ogni cristiano Amen deve avere se possiamo dire questo giardino dell'Eden personale dove ha la sua intimità con il Signore ma in questo contesto andando avanti sappiamo la storia ovviamente di ciò che succede e ciò che succede è che Adamo ha perso la sua intimità con il Signore e tutte le funzioni tutte le capacità tutto il potenziale che Dio le aveva dato lo ha perso Amen ecco perché dice che mangerà del frutto del suo sudore comincerà a faticare e tutto quello che la scrittura dice ha perso una sfida molto importante che il Signore le aveva dato e questo è molto importante perché allo stesso modo ogni cristiano ogni leader Amen che ha preso la sua sfida personale in Cristo Gesù per esempio in un gruppo di amicizia nel leader in un qualcosa nella chiesa è stato scelto dal Signore ed è stato posto in un luogo spirituale affinché possa insegnare prima di tutto alla sua famiglia e poi gli altri ad amare Dio Dio ha dato un giardino dell'Eden ad ogni leader affinché ci sia un'intimità con lui però qual è il problema che in questa intimità Adamo ha fallito e si è dimenticato di provvedere tutto ciò che necessitava Eva quindi ciò che è successo è che la donna si è allontanata dal marito ed è stata tratta in inganno da Satana mariti attenzione a dove stanno le priorità perché se incominciano a mancare le provvigioni spirituali se incominciano a mancare le provvigioni morali se incominciano a mancare le provvigioni familiari se incominciano a mancare le provvigioni personali se incominciano a mancare le provvigioni materiali o tutto quello che la nostra vita è concentrato nelle vite nella vita delle provvigioni materiali avremo un grande problema come lo hanno avuto Adamo e Eva perderemo la nostra intimità col Signore Amen si perderà la nostra relazione tra marito e moglie tra figli ed è solo questione di tempo che il nemico ingannerà i nostri figli ingannerà le nostre mogli e sarà un grande problema Amen quindi la base spirituale è importante la tua comunione intima il tempo che le dedichi al Signore e alle cose del Signore è più importante del tempo che ogni essere umano guadagna e scusa spende e dedica alle cose materiali le cose materiali andranno a finire le cose spirituali sono quelle che andranno avanti per l'eternità e che ti portano alla vittoria spirituale alla vita eterna Amen quindi la base spirituale è importante ma allo stesso tempo è importante anche una base solida Amen Libro di Matteo capitolo 7 versetto 24 fratello Victor Amen Libro di Matteo capitolo 7 versetto 24 Amen Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia Amen Se come leader stiamo ascoltando parole sante istruzioni sante in tutto quello che ascoltiamo mettiamole in pratica perché mettendoli in pratica stiamo edificando come dice la parola di Dio fratello sulla roccia sulla roccia e chi è Cristo e chi è la roccia è Cristo il nostro fondamento la nostra base che rende solida ogni costruzione spirituale che noi facciamo con i nostri figli con la nostra famiglia nel nostro matrimonio eccetera eccetera se è fondata su Cristo sarà un risultato eccellente solido se non è fondato su Cristo è solo questione di tempo la scrittura prosegue dicendo passeranno i venti le tempeste e tutto sarà spazzato via Amen e su questo ci sono tante scritture ma è importante la base solida per esempio in Deutronomio capitolo 4 versetto 9 la scrittura dice solo bada bene a te stesso vuol dire sta facendo riferimento al leader al padre al marito al sacerdote al capo della casa Amen solo bada bene a te stesso e veia dirigentemente sull'anima tua per non dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto e perché non si allontanino dal tuo cuore per tutti i giorni della tua vita ma insegnale ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli è importante essere radicati nella parola di Dio giorno dopo giorno e richiede tempo tempo di qualità non è 5 minuti di una lettura 5 minuti di una preghiera è veramente vivere camminare passeggiare nel tuo giardino dell'Eden giornaliero la mattina presto incominciando bene la giornata perché alla fine del giornata dovrai insegnare tutta la tua giornata ai figli e alla moglie non parlando delle cose di questo mondo ma condividendo ciò che il Signore ha fatto con te in mezzo a questo mondo come ha provveduto come ti ha benedetto cosa è successo è parte della vita cristiana ci chiamiamo apostolici pentecostali apostolici perché viviamo uno stile di vita come gli apostoli e gli apostoli qual è il loro stile di vita che dove camminavano dovunque andavano succedeva un qualcosa succedeva un qualcosa o per il bene o per il male fratelli qualcosa deve succedere dove noi camminiamo non può rimanere tutto uguale giorno dopo giorno dopo giorno qualcosa deve succedere nel tuo luogo di lavoro qualcosa deve succedere nella tua cerchia di amicizie che non è parte della chiesa qualcosa deve succedere nella tua famiglia che non è convertita qualcosa deve succedere amén e siamo pentecostali perché crediamo in ciò che è successo nel giorno di pentecoste crediamo nello spirito santo crediamo nel battesimo dello spirito santo e viviamo guidati dallo spirito santo quindi lo spirito santo ti insegna giorno dopo giorno cosa fare per ricevere tutto quello che abbiamo detto e cosa non fare per non perdere tempo nelle cose di questo mondo e occuparci in cose che Dio sta dicendo non è questo il luogo il tempo dove che tu devi impegnare amén quindi vada bene alla tua anima perché se la tua anima non è salvaguardata e se la tua anima ogni giorno non è portata verso la salvezza non porteremo la nostra famiglia la salvezza ma ciò che insegneremo è la nostra mancanza di fede e la vita quotidiana come tutto il mondo Dio fratelli ci ha dato linee guide specifiche a noi uomini per questo abbiamo una grande responsabilità di creare una vita in famiglia una vita sana con solide basi amén e il Signore Gesù Cristo in Matteo capitolo 4 24 ci ha dato un insegnamento un fondamento importante per ogni leader e ogni padre è solo che dobbiamo scegliere cosa fare giornalmente quindi quando i nostri figli quando le nostre mogli quando la nostra famiglia è fondata sulla fede in Cristo Gesù non importa ciò che può accadere intorno a noi ciò che può accadere ai nostri figli ciò che può accadere alle nostre mogli non importa rimarranno fermi perché sono stati educati gli è stato insegnato e sono stati affermati in principi biblici per questo la scrittura dice solo bada bene a te stesso e veglia dice la parola diligentemente sull'anima tua per non dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto e perché non si allontanino dal tuo cuore per tutti i giorni della tua vita ma insegnale ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli che responsabilità molto grande quindi fratelli per concludere questo insegnamento amè abbiamo potuto imparare in questa lezione quanto è grande la responsabilità che un padre ha ma anche quanto è grande la responsabilità che un leader ha perché se tutto funziona bene nella famiglia abbiamo letto nella scrittura in prima di temotio che dio ci va a mettere in un luogo molto importante nella sua chiesa leader della sua chiesa quindi abbiamo una responsabilità come capi della nostra famiglia di provvedere ai bisogni della famiglia di provvedere a tutti i bisogni della nostra moglie dei bambini dei nostri figli e abbiamo imparato che non sono solo i bisogni materiali amè quindi dio ha messo ha scelto l'uomo come capo per riempire quelle priorità in ogni membro della nostra famiglia e quindi abbiamo anche la responsabilità di imparare e una volta che abbiamo imparato è importante mettere in pratica e ci sono molte aree dove molti padri sono ben forniti ma ci sono tante aree dove forse non siamo ben forniti e quindi il Signore ci invita ci esorta in ogni area che abbiamo parlato ad essere ben forniti ben fermi affinché non falliamo non barcogliamo non cediamo in nessun area e possiamo essere dei buoni sacerdoti della nostra casa buoni provveditori della nostra casa amè fratelli con questo concludo che dio vi benedica che la pace di Cristo sia con voi e se dio permette andremo avanti la prossima settimana continuando questo studio dei leader se qualcosa ti ha colpito se qualcosa vuoi che sia approfondita se hai bisogno di qualcosa ci puoi contattare ci puoi scrivere alla nostra mail alessandrochiocciolantioca.it puoi visitare il nostro sito www.ore.antioca.it oppure puoi chiamarci al 334 39 18 793 siamo a tua disposizione per ascoltarti per pregare con te e se dio ci dà parola per guidarti ti daremo il consiglio da parte di dio affinché tu possa diventare un buon padre e fratelli veramente dobbiamo essere consapevoli che i tempi sono difficili e non ci sono più i padri con principi sani questo il signore ci sta insegnando e ci sta portando all'attenzione delle nostre vite che dio vi benedica un saluto dal ministro Bracuto dalla opera OREV di Milano pace di Cristo e dio vi benedica